ciao ragazzi ciao ragazze benvenuti nel mio canale oggi andremo a fare un video di recensioni e i miei acquisti allora ho acquistato il cellulare samsung a7 l'ho acquistato il 26 marzo però non avuto il tempo di fare la recensione quindi è stato già aperto e messo in uso qui ho le cuffie il caricatore e le istruzioni che io non leggo mai allora ecco qui il mio nuovo cellulare lo faccio vedere acceso e poi c'è una videocamera molto stupenda questo è quello che mi è piaciuto di più perché io amo tanto la fotografia e i video questa è la videocamera gli ho inserito una micro card di 128 gb il prezzo del cellulare è 299 euro tra pellicole custodia 340 euro l'unica differenza che ho che si casca questo si spacca perché è di vetro quello di prima poteva cascare anche decimila volte che non mi si è mai rotto quindi se questo cade è sicuro che bisogna acquistare l'altro spero che il mio nuovo cellulare vi sia piaciuto colore è azzurro dietro spero che questo video vi sia piaciuto io vi auguro a tutti una buona serata e noi ci sentiremo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciatemi un bel mi piace e ci sentiremo presto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti